Ciao ragazzi, vi volevo dire che prima ho provato a ricostruire il Real Madrid, però non ho fatto il video. Se volete fare una rebuilding con il Real Madrid, andate a spruciare negli altri video. Comunque vi faccio vedere velocemente la squadra, che è questa, la squadra che ho fatto per fare questo rebuilding. Ancora incredibile, con Courtois, Grimaldo, Ramos, Varane, Carval, Casemiro, De Bruyne, Carros, Hazard, Lewandowski e Messi. Comentate qui sotto nei commenti, secondo voi, quale giocatore, tipo, forse Ramos, Grimaldo, oppure Lewandowski, oppure qualcun altro. Secondo voi, chi è carominato la rosa, la squadra, secondo voi, che dovevo migliorare? Scrivetelo qui sotto, lo folto apposta, la squadra sarebbe con un piccolo difetto. Un piccolo difetto dovete trovare voi qual è. Vi dico che non è facile. Quindi, mi raccomando, commentate qui sotto, secondo voi, chi è colui che ha ruminato la rosa. Le altre competizioni sono andato bene, tipo il campionato l'ho vinto, con il capo cannoniere, ovviamente, Messi. Eccolo qua, Messi con il parcellona. Messi con il parcellona, con il coro di Madrid. Si può vedere qua, con la supercopa, come vedete, sono uscito alle semifinali. Con la copa di Spagna, purtroppo non l'ho vinta, sono uscito alle semifinali. L'altro lì con Madrid. Nella, se ne è ti comito, torno a Michele l'ho vinto. C'è il mito lì che sono uscito in semifinale. Con il Liverpool, che passa, ovviamente, per i quali, in trasferta. Guarda che figa, proprio. E il parcellona, che anche lei viene eliminata alle semifinali. I due squadri inglesi che si vedranno in finale, che si vedranno ancora più cari. Gironi, sono arrivato al primo. Ottavi, dove sono? Ho massacrato il Napoli, purtroppo. Qua ho battuto il Paire Monaco, poi sono uscito. E un po' in Europa League, invece, che hanno fatto le altre squadre. Al finale, Leverkusen e Dortmund. Leverkusen che elimina l'Arsenal. E poi questa ragazza ha fatto un'ottima stagione, mi sa, quest'anno. Qua chi si giocherà la finale. Comunque, ragazzi, tra me ho fatto una buona squadra. Alcuni sono anche cresciuti. E vabbè, ragazzi. Comunque, oggi... Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Comunque, secondo me...